cari amici bentornati nel mondo smart di lg in questa puntata di lg in the box voglio parlarvi di uno smartphone rivoluzionario lg optimus dual dual perché è il primo con processore tegra 2 di nvidia potentissimo con un gigahertz di frequenza e con due motori di elaborazione proprio come nei pc il processore di tipo dual core velocizza l'esecuzione dei compiti più comuni optimus dual raddoppia quindi la velocità di navigazione l'esecuzione delle applicazioni e più in generale il multitasking per un'esperienza d'uso di altissimo livello fluida e immediata qualunque cosa vogliate fare ma le innovazioni di tegra 2 non si fermano qui per chi ama giocare optimus dual offre per la prima volta una grafica 3d paragonabile a quella delle console portatili con performance almeno cinque volte superiori a qualsiasi altro smartphone in commercio lg optimus dual è inoltre il primo smartphone in grado di registrare e riprodurre filmati in full hd sul proprio display da quattro pollici oppure tramite la connessione hdmi direttamente sul televisore di casa con la funzione hdmi mirror infatti è possibile guardare i film sul televisore ma anche giocare sfogliare le foto e navigare in internet in multitasking e con piena compatibilità con i siti in flash tutto alla massima velocità e in full hd ancora una volta grazie al processore tegra 2 dual core alte prestazioni ma bassi consumi perché tegra 2 ottimizza al massimo la durata della batteria lg optimus dual è lo smartphone di punta di lg che offre quanto di meglio si possa desiderare alla base troviamo il sistema operativo android 2.2 che potrà essere aggiornato alla versione 2.3 e la tecnica è al top oltre alla cpu tegra 2 troviamo il wifi in banda n e il 3g high speed il gps due fotocamere da 8 e 1.3 megapixel quest'ultima per le videochiamate una memoria interna da 8 gigabyte espandibile con altri 32 gigabyte il tutto abbinato a un design robusto con il vetro gorilla glass che protegge il display da 4 pollici con risoluzione di 800 per 480 pixel optimus dual è semplicissimo perfino da usare grazie alla nuova interfaccia lg e alle numerose applicazioni google fra cui gmail google maps navigator e naturalmente l'android market con oltre 150 mila applicazioni tutte da provare precaricati troverete anche il lettore di documenti document master attraverso cui accedere a google docs e per stare alla larga dei guai l'antivirus f secure senza mezzi termini lg optimus dual è lo smartphone più potente sul mercato come dimostra il software benchmark di quadrant con un indice superiore a 2000 che è quasi il doppio rispetto a qualunque altro smartphone android in commercio lg optimus dual sarà disponibile a partire da fine febbraio in tutti i migliori punti vendita con una confezione che include cavo dati auricolari stereo e il cavo hdmi per il collegamento con la tv cari amici di lg in the box anche per oggi abbiamo concluso vi do appuntamento a prestissimo per parlarvi dello smartphone più luminoso al mondo alla prossima